La torna al tempo però Grazie a tutti. Questo perché manca l'acqua di vita di tutta questa nuvara che è adiacente a questo tratto di strada per cui l'acqua non riesce ad andare in maniera naturale a mare e si è creata questa vasca. E quindi al di là di svuotare, chiamiamo una vasca perché dentro una vasca poi la cosa più importante è la politica che sarebbe fatta di questo pezzo più umano. Grazie a tutti.